spiaggia di kalamaki a zante il 25 agosto 2021 ore 11 un quarto 11 e mezza circa del mattino ovviamente c'è un sacco di spazio sarà perché siamo già a 25 di agosto sarà perché ci sono tanti altri lidi sull'isola oggi siamo venuti qua perché purtroppo è il giorno della partenza e quindi alle 3 dovremmo pensare di andarcene per prepararci per il viaggio comunque l'acqua bella limpida la sabbia marrone però abbastanza pesante quindi non resta molto in sospensione bello comunque tranquillo i lettini due lettini con l'ombrellone che non fa tanta ombra perché di quelli forati quindi tra bronzi anche strasotto lì potiscotti 5 euro c'è anche la doccia dietro c'è il bar quelli tini qua sono proprio in fondo alla strada asfaltata che costeggia la spiaggia la in fondo si vede dove c'è la spiaggia di geracas qual'isola l'isolotto lì come si chiama di fronte a noi maratonissi l'isola maratonissi alcuni la chiamano l'isola delle tartarughe in fondo dove c'è un po' di costruzioni la ganas e da qui alla ganas c'è tutta una spiaggione in certe zone c'è proprio nessuno probabilmente è più difficile scendere la spiaggia per passare all'interno del bosco che sta dietro la spiaggia la invece vedo un impianto balneare uno stabilimento con gli obreroni bianchi ecco ultimo filmato delle vacanze 2021 agosto ovviamente ci sono i pesciolini che vengono a morsicarmi ho dovuto muovermi